Ho avvistato un caro nemico, passo. Ho avvistato un caro nemico, zona, passo. Ho avvistato un caro nemico, passo. Attenzione! Un veicolo stile sta trovizzato nell'area operativa. Passo. Un veicolo stile. I'll get back! E' un piccolo nemico, occhi aperti, passo. E' un piccolo nemico. Il portato nemico è stato avvistato nell'area operativa, passo. E' un piccolo nemico. 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 Attrazione, basso. Elimino il bastardo! Attenzione, il vito è stato preso, bastardo. Attenzione, il vito è stato preso. Attenzione, il vito è stato preso di voi. Procedere con cautela, passo. Quello fratto è mio! Attenzione, il vito è stato preso. A un seguro ruolo, basso. Medico, il medico. Attenzione, è stato affistato un caro armato nemico nell'area operativa. Procedere con cautela, passo. E' stato agitato un cavo armato nemico direttamente verso di voi. Attenzione, passate. Ecco il kit medico. Attenzione, carro armato nemico nell'area. Procedere con cautela. Obiettivo al sicuro. Mastro. Chief nemica nell'area. Procedere con cautela. Mastro. Procedere con cautela. Procedere con cautela. Procedere con cautela. ho visto attenzione c'è un elicottero ostile nell'area procedere con cautela è stato evitato il contatto nemico nell'area operativa è stato evitato nell'area procedere con estrema cautela è stato evitato è arrivato il pronto soccorso raccogli il tuo kit medico è stato evitato un veicolo nell'area basso attenzione l'obiettivo è stato preso basso ecco il pronto soccorso attenzione l'obiettivo attenzione l'obiettivo attenzione l'obiettivo attenzione abbiamo preso l'obiettivo basso attenzione l'obiettivo Ho avvistato un mitragliere nemico nell'area operativa. Ho avvistato un elicottero nemico nell'area. Passo. Attenzione, attenzione! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Passo! Attenzione! Un soldato nemico con anticarro è stato avvistato nell'area. Passo! Fuoco di precisione nemico in zona. Passo! Un soldato non ci sono vissuto e un soldato non ci sono sicuri. Ancora! Un soldato non ci sono sicuri ed escono le sciegeliche. Abbiamo preso l'obiettivo! Un soldato non ci sono stati volentieri! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.